Nella notte, santa il cuore, esulta l'amore, è Natale, è Natale. Le voci del coro Le Dolcino, Te di Roma, hanno incantato il pubblico presente nella chiesa di Santa Maria della Tomba nel pomeriggio di ieri. Un grande successo per il primo concerto di Natale, voluto dalla parrocchia e dalla confraternita di Santa Maria di Loreto. Un coro composto da 44 ragazzi tra i 4 e i 15 anni che la sera della vigila di Natale canterà in Vaticano nel tradizionale concerto che sarà trasmesso su Canale 5. Questi ultimi tre giorni i ragazzi hanno avuto un lavoro intenso, dalla mattina alla sera per le prove. Sì, abbiamo fatto proprio ieri sera questo concerto di Natale, insieme a tante big della musica, Anastasia, Ermal Metal, Alessandro Amoroso, Alvaro Solerchi, più ne ha più ne metta. Abbiamo incontrato il Santo Padre che ha salutato uno per uno i ragazzi, quindi gli ha dato la sua benedizione e è stata un'esperienza veramente incredibile. Tanto entusiasmo anche per il corretto dintro d'acqua e i fiati dintro d'acqua che attraverso i canti di Natale hanno voluto lanciare un messaggio di pace. Una chiesa piena di fedeli, di ascoltatori, tanta curiosità, sì è un concerto che ha voluto la confraternita, l'ha proposto alla parrocchia, la parrocchia con Don Ramon è rimasto contento che la confraternita si è fatta carico, insomma, un po' dell'organizzazione per invitare soprattutto i protagonisti, cioè il coro venuto da Roma di Voci Bianche e poi l'ensemble di intro d'acqua. Diciamo ben riuscito, sì, tanta partecipazione e questo ci dà gioia, ci dà gioia proprio in questo periodo di avvento che è importante, siamo tutti in attesa e quindi il Santo Natale ci raggiunge. Da quando abbiamo iniziato a prepararci per vivere anche nel concerto un momento di preghiera è stato sentito da tutta la comunità parrocchiale e dalla comunità lauretana, la confraternita. Il messaggio è uno solo, aprire sempre il cuore, aprire sempre la mente, aprire sempre le mani per accogliere la venuta, la visita di Gesù Cristo che tra poco lo celebreremo nella liturgia, ma che verrà sempre quando ogni fratello bussa il nostro cuore per sostenerci e per aiutarci ad andare sempre a vivere il Vangelo della Carità. Ma il vero messaggio di Natale è ieri arrivato dal Vescovo di Sulmona Valva, Monsignor Michele Fusco, che ha sottolineato Il Natale è un momento importante dove è necessario donare. Non dimenticate mai di sorridere in ogni istante della giornata perché sorridere significa affrontare la vita con gioia, proprio come ci ha insegnato il Signore. Un messaggio di Natale che apre alla speranza e che apre ad un 2019 migliore. Un messaggio di Natale è ieri arrivato dal Vescovo di Natale.